buonasera eccoci qua con il nostro appuntamento serale con uno dei grandi autori della musica italiana abbiamo con noi questa sera max pezzali ciao max ciao ciao a tutti ciao a tutti buona serata un saluto particolare a tutti gli amici di radio bruno ea tutti gli amici che ci stanno seguendo anche sui canali della mondadori bookstore questa sera siamo qui per parlare di un libro ma in realtà visto che con max stavamo parlando anche prima di della diretta di tutto dalla musica alla società al tema del covid sarà sì una presentazione del libro però in realtà con max potremo parlare evidentemente di tutto il libro che andiamo a presentare questa sera si chiama max 90 la mia storia i miti e le emozioni di un decennio fighissimo della sperling e cup facciamo vedere la copertina che è questa come tua abitudine è un cartonato pesante e quindi però direi che in questo caso ne vale la pena perché oltre al fatto che tu racconti in questo tuo libro i tuoi miti degli anni 90 di un decennio che ti ha visto protagonista è un libro anche di immagini un libro dove si può come dire scorrerlo anche come se fosse un fumetto e ogni tanto appunto prendere quello che tu ci scrivi però io prima di iniziare a parlare del libro volevo un tuo pensiero oggi è una giornata triste per la musica italiana per la musica d'autore italiana e non solo la morte di franco battiato tema è capitato di collaborare con lui di incontrarlo un tuo pensiero sulla sua musica allora io e lui non ci siamo mai incontrati ma uno dei miei più diciamo stretti collaboratori davide ferrario a che fa appunto oltre a suonare la chitarra con me a produrre gran parte delle mie canzoni poi mi segue anche in tour da diversi anni però precedentemente aveva fatto credo 10 o 12 anni con franco battiato e quindi diciamo anche se non ho avuto modo di conoscerlo direttamente dai suoi racconti dei racconti anche di di pinaxa di pino pischetola che era uno anche lì dei suoi più stretti collaboratori dal punto di vista proprio tecnico praticamente dai loro racconti è sempre emerso il sono sempre emerse caratteristiche le caratteristiche straordinarie del fuori classe no cioè battiato era sicuramente al di sopra della non solo dal punto di vista culturale no perché poi sai alla fine sembra sempre che uno debba sottolineare l'aspetto così culturale e di intelligenza anche al di fuori della musica ma io di lui ho un ricordo prevalentemente musicale cioè a me interessa quello mi interessa il suo lascito musicale che è stato ed è immortale perché è riuscito a muoversi con altrettanta diciamo naturalezza nel pop più popolare quanto nella musica sinfonica con tutto quello che ci sta in mezzo e questa è una cosa che possono fare solo i giganti veri fuori classe e in italia non ce ne sono stati molti diciamo nell'ultimo secolo ecco allora max veniamo al tuo libro lo ripetiamo max 90 la mia storia i miti e le emozioni di un decennio fighissimo allora nelle note che accompagnano questo libro c'è un tuo virgolettato tu in questo virgolettato dici che questo è un libro che vuole essere come dire una sorta di passaggio di testimone da una generazione all'altra perché la nostra in questo caso la tua quegli anni o qualche anno in più di te quindi però in realtà credo che tutte le generazioni spesso siano di passaggio per qualche aspetto però una generazione di passaggio e tu gli dai come dire una sorta di chiavi di lettura per capire in che società ci troviamo in che mondo ci troviamo perché ascoltano questa musica perché è così importante il telefonino che all'epoca degli anni 90 il telefonino era solo per i manager quelli che giravano in giacca e cravatta noi in questo caso tu che l'ascito dai alla generazione successiva beh tu hai detto giustamente il il passaggio no cioè gli anni 90 sono un decennio essenziale chiave perché sono un decennio che appunto viene raccontato come decennio ma come sempre accade i decenni non sono mai dal primo gennaio 90 al 31 dicembre 99 i decenni in genere stanno un po a cavallo anche degli anni un po prima e un po dopo no io in questo caso vedo come inizio degli anni 90 in realtà uno spostamento più indietro verso la fine degli anni 80 e come fine del del decennio il 2001 quindi non il 99 il 2000 perché il 2001 è quando insomma crollano le torri gemelle c'è l'esplosione della bolla diciamo di internet la prima bolla la speculativa di internet che fa anche lì dei danni incredibili dal punto di vista economico e è l'anno del g8 di genova insomma di quando accadono diciamo quando si perde un po la l'idea dell'ottimismo a tutti i costi che un po aveva caratterizzato almeno nella testa di molti il decennio appena concluso quindi ecco il passaggio è quello è un decennio di passaggio proprio perché è arrivata internet no cioè all'incirca metà del decennio in italia io ho fatto il primo collegamento in rete nel credo nel 1994 95 c'erano ancora i modem a 14 e 4 una velocità ridicola e dovevo fare il numero 02 perché internet c'era a milano non lo trovavo poi via quindi era chiamata interurbana però ecco arriva la rete e cambia tutto quindi raccontare ai giovani questo decennio significa far vedere con delle cose anche divertenti no insomma con degli esempi a volte anche un po comici far vedere come nello stesso decennio ci fossero delle cose ormai parte oggi di un passato remotissimo ma in quei momenti invece assolutamente attuali e nel frattempo siamo passati con la rivoluzione digitale al mondo attuale a quello che nel quale viviamo oggi no ed è un modo per dare a loro una chiave di interpretazione per dirgli guardate che anche se sembra mille anni fa in realtà è per noi che l'abbiamo vissuta qui dietro l'angolo allora il libro si apre con una prefazione di Lodo Guenzi poi ci sono una manciata di righe di Mauro Repetto che ricordo all'epoca erano l'altro degli 883 esattamente il biondino degli 883 quello che balla e quindi però come vede come possono vedere i nostri amici e lo capiranno anche leggendo il libro è un'amicizia che è rimasta assolutamente e ognuno a un certo punto sceglie la propria strada e decide di andarsi però arriviamo ai capitoli si parte dal capitolo 1 il deca e si arriva al capitolo 235 o al mito 235 perché qua stiamo parlando di miti che gli anni zero allora il deca lo sappiamo tu e io e qualcun altro visto che stavo guardando qua sono tutti molto molto relativamente giovani quelli che ci stanno seguendo c'è anche l'amico florian dalla francia che ci segue e ti fa i complimenti ci sono paola grande max un saluto saluto tutti quelli che ci seguono in questo momento chiaramente e quindi allora tu inizi con il deca perché il deca è stato un simbolo importante per chi aveva 22 23 anni e qualcosina in meno qualcosina in più negli anni 90 e sì perché l'essere studente significava allora un po forse come oggi essere squattrinato e il deca era l'unità di misura non dico della felicità ma del tentativo perlomeno di raggiungere la felicità nel weekend chi come me non arrivava da classi particolarmente abbienti non aveva genitori sai poi cioè i miei erano lavoratori però non sempre con l'ottica di farti guadagnare le cose più che di insomma fartene un po sudare le cose e il deca era quello che spesso ci si trovava in tasca per uscire il sabato sera era un unità di misura abbastanza diciamo sembrava di avere in tasca qualcosa ma averne uno solo era un problema perché perché portava una scelta allora o facevi benzina e quindi andavano a finire tutti in benzina perché quello era 10.000 lire di benzina si ci facevi però oppure decidevi che quello era il tuo budget per la eventuale pizzeria che però nella canzone con un deca appunto una mia canzone dice non ci basta neanche in pizzeria perché effettivamente la pizzeria dove andavo anch'io alla fine forse margherita e coca cola senza caffè ci stavi ancora ma per un pelo se cominciavi a prendere il caffè o a volere la birra media che era già una cosa da ricchi o una pizza più articolata più complicata non ci stavi sicuramente dentro il deca quindi dovevi fare delle scelte la serata poteva andare in un modo poteva andare nell'altro magari evitavi di uscire a cena per tenerti i soldi per andare al bar e non facevi benzina alla macchina quindi rimanevi in città e non uscivi cioè era un periodo di scelte molto precise quello della pizzeria è un tema comune a moltissimi noi avevamo una pizzeria da queste parti dove i gestori venivano chiamati gli incas perché comunque era ordinavano loro per te in sostanza perché ti vedevano subito quella che era la cifra a disposizione quindi cosa ti potevi permettere allora a proposito di miti un ragazzo che nasce nella nebbiosa pavia in un posto che come come nascere nel centro dell'emilia che pare essere lontano da tutto come a come gli nasce il mito di new york e degli stati uniti in genere dell'america in genere beh allora a me ci sono stati tanti fattori a influenzarmi diciamo che in quegli anni era molto più diciamo più normale avere il mito dell'america perché dopo gli anni difficili no del di reagan no quindi l'america il volto un po aggressivo e e rambistico della dell'america no quindi con anche tutti i film su rambo eccetera eccetera quindi gli anni 80 c'è stato un po quella roba lì l'america era vista in maniera controversa negli anni 90 l'america è un po più amichevole no c'è la presidenza clinton sì ci sono le guerre le cose ma quelle ci sono sempre però c'è un'immagine più più positiva a me ecco l'america è stata in gran parte mutuata l'amore per america è stato in gran parte mutuato fin dagli anni 80 da springsteen cioè io avevo questo mito americano del così del del boss che raccontava nelle sue canzoni queste storie meravigliose di di provincia di perdenti che cercavano in qualche modo un riscatto era l'america che piaceva a me era l'america non del successo era l'america un po laterale no un po delle strade di campagna da cui si vedeva magari in new york senza riuscire mai a raggiungerla poi io ho avuto una fortuna che mi ha cambiato la vita ovvero nel 1987 a pavia venne per un miracolo di qualcosa che succedono per l'allineamento dei pianeti un dj di new york venne lavorare un mese a pavia ma non un dj qualunque uno bravissimo che era dj residente nei club più alla moda di quel periodo dal limelight al cat club al tunnel all'area club pazzeschi che praticamente insomma c'era questo direttore artistico illuminato di questi due locali di pavia che disse no dopo durante il viaggio new york voglio questo questo dj portarlo nella mia città per chiaramente non fu capito perché metteva della musica che nessuno io impazzì invece perché vedevo vedevo sentivo un suono che non avevo mai sentito prima e diventai amico suo perché nessuno parlava l'inglese un po lo masticavo siamo diventati molto amici siamo andati in giro cosa succede che l'anno dopo nell'88 lui mi dice ci scrivevamo no lui è stato un mese poi torato ma quando è che mi vieni a trovare mi ha invitato a new york nell'estate dell'88 io sono andato e quindi pensiamo a uno in quegli anni che non era stato da nessuna parte e si trovava improvvisamente con i risparmi le cose prendersi il biglietto io ricordo ancora che il biglietto della twa tv a la linea aerea dell'ora costava 740 mila lire quindi è stato una battaglia c'è voluto un anno e si è arrivato di là io c'è sceso al jfk improvvisamente ho scoperto il che è come se avessi veramente visto un altro pianeta cioè andare su marte avrebbe fatto probabilmente meno effetto su di me perché l'idea che avevi dell'america senza i social senza ti arrivava solo dal cinema dai fumetti o fumetti di spider man lì vedevo new york ma quando mi sono trovato lì dentro ed era effettivamente come me l'ero immaginato anzi forse di più sono impazzito addirittura questo amico mi portava cioè io ero sulla guest list dei locali più alla moda perché io arrivavo vestito da uno di pavia cioè arrivavo c'era la fila di tutti io arrivavo davanti on the list pezzali questo diceva ok come on in porco giuda io ero su lei vedevo tutti questi vestiti tutti fighi fighettissimi che mi guardavano come se fossi un potentissimo perché nessuno era sulla lista quindi a me quella roba ha cambiato la vita allora salutiamo l'amico che si scrive dalle canarie se si collegato solo adesso gli ricordiamo che stiamo parlando di max 90 il nuovo libro di max pezzali edito da sperling lo stiamo raccontando attraverso gli aneddoti che trovate scritti anche sul libro evidentemente è molto più ampio quello che troverete sul libro rispetto a quello che ci raccontiamo volevo chiederti ma tu sei passato all'early davinson perché l'alternativa era la citroen visa no beh diciamo che io in tutto il mio periodo iniziale di patente non è che sia stato ma anche senza patente anche proprio come mezzi di locomozione in generale non è che sia stato super fortunato perché l'avisa che gli viene ben raccontata l'avisa verde con interni marroni a pua bianchi che è una cosa che anche c'è neanche Dario Argento penserebbe neanche Dario Argento può immaginare eppure l'avevano fatta e mio padre l'aveva presa e quella è stata la prima macchina con cui sono andato in giro e quindi diciamo uno sogna tutta la vita di arrivare almeno quando sei giovane si sogna si sognava di arrivare 18 anni per avere la patente l'emancipazione la macchina finalmente potrò andare e ti trovavi con la visa verde e quindi diciamo che non ti aiutava molto neanche con le ragazze cioè era una situazione era meglio parcheggiarla lontana ti aiutava ad arrivare nei posti ma non era cioè non si voleva tanto diffondere la notizia di avere la visa verde e anche gli amici ti dicevano poi no guarda andiamo con la mia perché capivano che ma io anche prima non è che con le moto avessi avuto tanta fortuna perché i miei a parte i motorini che all'epoca chiaramente qui invece siamo negli anni 80 all'epoca andavano via come i motorini scomparivano alla velocità della luce ho avuto due ciao e un bravo i due ciao chiaramente scomparsi rubati erano cioè venivano saltavano come le autoradio del resto e poi non ho avuto la possibilità di prendere il 125 a 16 anni perché i miei mi hanno detto no vabbè qui è un altro tipo di investimento un costo diverso quindi quando avrai i tuoi soldi lavorerai eccetera eccetera potrai comprartela quindi lui diceva vabbè allora rimandiamo di tanti anni arriva prima la macchina fondamentalmente perché quella c'è quella di famiglia e quindi ho avuto il sogno della moto da quando avevo 16 anni e alla fine per me è stata una grande vittoria diciamo quei soldi dei primi dischi potermi prendere la prima Harley Davidson perché avevo questo mito dell'America che passava anche per l'America due ruote che erano le Harley Davidson tra l'altro quando parlavi dell'America mi veniva in mente l'America degli anni 90 raccontata dai cantautori americani era quella dei losers dei perdenti a quelli che vedono da lontano i grandi grattacieli tu pensa che negli anni 90 arriva proprio loser di Beck che è una canzone chiave per la musica di quegli anni cioè per la prima volta c'è proprio la figura del loser che diventa protagonista di una canzone non c'è più il mito di quello che canta ed è lo strafigo di turno ma può anche essere cioè secondo me appunto l'America bella è quella è quella perdente non è mai quella vincente. Allora una cosa impegnativa che ci arriva da Stefano che ti chiede ciao Max attendo ancora la barzelletta del pinguino. Allora la barzelletta del pinguino che è diciamo è anticipato il cui contenuto è anticipato in una canzone che si intitola Omeo quei deficienti lì è è un racconto di una cioè praticamente la barzelletta talmente grezza che nella storia della canzone nella narrazione della canzone fa inorridire la ragazza che viene portata al diciamo nel bar degli amici ecco questo di questo si parla molto nel libro cioè della difficoltà di coniugare le due realtà cioè quelle le due personalità ai tempi potevi vivere dato che non c'erano i social potevi vivere delle vite sostanzialmente parallele e che non si sarebbero mai toccate a meno che tu non lo volessi perché con gli amici del bar avevi una personalità facevi raccontavi anche cavolate eccetera poi uscivi con la ragazza ed eri tutto preciso facevi quando questi due mondi venivano a contatto era la la deflagrazione perché il te stesso con gli amici era una creatura completamente diversa rispetto a quella che la ragazza aveva visto quindi il te stesso da ragazza ecco mettiamola così quindi la barzelletta il pinguino rientra in quello quando l'amico esce con una barzelletta volgarissima diciamo che non arriverà mai il finale però su internet si trova una barzelletta molto volgare ma che ha molto a che fare diciamo diciamo con una trattativa relativa a una prestazione diciamo sessuale e dopo ci sono e una delle opzioni è il pinguino e il diciamo il protagonista narrante della barzelletta non capisce il perché di questa diciamo denominazione no dice perché si chiamera pinguino la punchline cioè quindi quando la barzelletta si risolve si capisce perché del pinguino e ha molto a che fare con il modo tipico di camminare dei pinguini quindi sono chi ha chi la la barzelletta capito se non la vanno a cercare è molto facile diciamo che è un po da è un po a luci rosse mettiamola così allora io mi sono dimenticato una cosa all'inizio di ringraziare subito che ci sta facendo la regia paolo ma non per la regia in sé no gradissimo perché in realtà è il mio wikipedia è quello che mi sta fornendo tutte le informazioni che ti riguardano essendo un tuo grandissimo infatti ci siamo parlati già già un'altra volta abbiamo avuto modo così distanziati però di parlare di queste cose e anche prima no perché ne sa molto più di me di me potrebbe fare il tuo biografo ufficiale adesso magari il suggeritore no se non ti ricordi una cosa poi a un certo punto e siamo sempre sul libro c'è la scoperta siamo intorno ai 20 anni del porno perché arrivano le riviste ci sono i vhs ci sono chi noleggiava in questi stanzini bui dove si poteva entrare solo se si faceva parte di una di una setta particolare una setta certo quindi vabbè perché appunto la cosa divertente e che sembra molto cioè che sembra quasi assurda per chi oggi ha un accesso praticamente cioè questo schermo può nascondere qualsiasi tesoro sostanzialmente per un giovane uomo magari alla ricerca di contenuti all'epoca non era così c'era era molto difficile reperire fonti di ispirazione contenuti quindi o si ricorreva al fratello più grande di qualcuno che chiaramente utilizzava questa sua maggiore età come un'arma di ricatto devastante perché diventava un lavoro praticamente facevi il fratello anziano di un adolescente e quindi e dei suoi amici quindi di fatto diventava un'attività proprio a tutti gli effetti perché aiutaci ci compreresti questa cosa mi spiace noi e allora colletta un deca per il tizio che andava in edicola e poi c'era tutto il mondo della appunto dei film no perché solo più avanti verso i tardi anni 90 sarebbero arrivati i dvd cioè già a metà anni 90 erano partiti un po i dvd ma era roba cioè il dvd era qualcosa per costava veramente una cifra era una cosa è da sure esatto prima era tutta roba di vhs narra la leggenda addirittura che negli anni 80 il vhs si sia imposto come standard rispetto ai più performanti perché vhs era della mazzuscita no della panasonic il formato e poi c'era il v2000 della philips e c'era il beta il betamax della sony che erano superiori entrambi al vhs ma l'esplosione nel mercato americano del vhs fu dovuta alla fatto che avessero liberalizzato la licenza del vhs per la pornografia quindi tutti a comprare videoregistrattori e stessa cosa per successo in europa fondamentalmente cioè diciamo la la fortuna di un formato la faceva la disponibilità di titoli a luci rosse puntiamola così devo dire che sei un grande esperto e beh no non di però di tecnologia sì ma infatti volevo dire di tecnologia sei tu che hai hai la cosa no no cioè nel senso comunque ho delle conoscenze cioè ho degli amici che mi raccontano che comunque anche io avevo degli amici che andavano in questi posti mai esatto mai frequentati mai assolutamente anzi in quel periodo facevo il chirichetto e quindi evitavo assolutamente assolutamente d'accordo allora io ancora un paio di domande però dopo volevo dare spazio perché ne stanno arrivando tantissime degli amici che ci seguono e credo che siano più importanti loro del sottoscritto che fa il reggi microfono io andrei al mito 65 e per andare al 65 che gli esami a settembre si volevo citarti una un passaggio di una canzone di un tuo collega la matematica non sarà mai il mio mestiere esatto e si è in notte prima degli esami c'è questa illuminazione appunto di venditi c'è questa illuminazione che io avevo colto anch'io cioè che anch'io avevo colto inconsapevole della della versione no sapevo della versione venditi ma io me ne accorsi molto prima cioè già dalla quinta elementare ho capito che la matematica non sarebbe stata il mio mestiere ma come un vero deficiente mi sono trovato senza alcuna ragione apparente a fare una scelta che avrebbe condizionato per sempre il mio destino diciamo di studente ovvero il liceo scientifico perché uno che non ha la più pallida cioè che non ha i circuiti che si occupano di matematica collegati non ho la scheda madre saldata perché uno dovrebbe arrivare a fare lo scientifico non lo so è capitato ad altri perché poi mi sono confrontato con altre persone poche fortunatamente che hanno fatto questa scelta perché a volte capitava perché magari non ti sentivi all'altezza del classico avevi paura che il greco ti potesse creare più problemi niente ti può creare più problemi della matematica se non ci capisci niente quindi meglio il greco ma anche il sanscrito sarebbe stato più praticabile della matematica e quindi mi sono trovato a ad avere fisso l'esame a settembre terza quarta liceo quarta liceo quinta liceo quindi tre anni perché i primi due anni nel biennio sono riuscito comunque riuscivo a starci dentro riuscivo a sghibiarla terza quarta e quinta tutte le stati erano praticamente rovinate perché l'esame a settembre non era debiti crediti cioè lì era semplicissimo cioè tu hai l'esame studi tutta l'estate quindi anche lezioni private rotture di maroni costi perché aveva dei costi poi mandare a lezione un figlio demente come me e poi quindi vacanze praticamente fottute completamente magari facci tre quattro giorni ma poi per il resto di rimanere a casa e poi inizio settembre ti presentavi a scuola se passavi bene se no avrebbero potuto respingerti io non è che avessi mai fatto delle performance straordinarie a settembre però è purtroppo cioè non purtroppo per fortuna la prof diceva vabbè ma tanto hai solo questa tanto non capisci niente ma non capirai mai niente quindi non vedo l'impegno e ti mandavano avanti comunque quindi arrivavi sui gomiti alla classe successiva dopo non aver fatto niente durante l'estate se non lì a studiare ripassare e l'anno dopo stessa cosa e chiaramente in quinta poi non poi ho fatto la maturità e però comunque ho fatto tre stati consecutive veramente impressionanti e lo stesso anche mauro ripeto col quale ho condiviso non solo gli esami di matematica sempre ma ho condiviso anche il voto della maturità c'è un pericolosissimo 41 e soprattutto eloquente 41 a quei tempi dicevano che per fare i concorsi statali serviva almeno l'uscita col 42 perché era i sessantesimi no 60 sessantesimi eh quindi sei fin lì ci arrivo 42 era sette 6 per 7 42 e dare a 1 41 vuol dire a posto cioè esci vai e vattene via ma non diventare un problema per la società cioè non non fare un concorso statale perché potresti essere un pericolo per te stesso e per gli altri no è un modo che avevano i professori secondo me per salvaguardare la società il futuro della società dall'implosione no perché se io e mauro avessimo avuto un ruolo del genere magari che ne so in un posto statale forse sarebbe crollata la nostra repubblica quindi hanno in qualche modo salvato tutti gli altri abitanti dandoci 41 sì anche perché l'altra opzione sarebbe stata quella di abbattervi direttamente però sì l'altra l'altra opzione è non si potrebbe fare altrimenti perché poi calcola che noi appunto siamo arrivati con 41 con zero conoscenze in matematica quindi vuol dire che eravamo stati bravissimi in tutte le altre materie e che la matematica ci ha abbattuto completo cioè arrivare col 41 avendo cannato completamente il compito di matematica che lì è fondamentale lo scritto di matematica cioè è capito allo scientifico era totale vuol dire essere stati talmente bravi nel resto che ci siamo salvati così per il resto ci ha salvato perché se no non era concepibile una roba del genere poi comunque in questo in questo capitolo troverete anche un aneddoto particolare di un di uno degli esami che hai sostenuto la risposta data una delle tue insegnanti non la diciamo no no è divertente sì è divertente comunque era ti perché in quel momento lì ero talmente sotto pressione cioè avevi la testa talmente piena di informazioni che però non riuscivano a essere messe nel posto giusto non riuscivano a starci che alla prima domanda un po fuori bam la tensione ma ha fatto sbagliare completamente il percorso della domanda comunque si è arrivato al 41 bis quindi sì esatto perché era ma era al passo prima 41 bis sarebbe stato forse un modo più carino di toglierci di togliere qualsiasi pericolo di allontanarci dal pericolo per la società che avremmo potuto insomma rappresentare allora vediamo un po di domande che sono arrivate dai nostri amici federico ciao max mi riusciresti a spiegare il significato delle quattro letterine magiche della canzone come deve andare come deve andare allora le quattro letterine magiche dato che lì nella canzone si parla di come nella mia generazione uno dei grandi una delle grandi mietitrici mettiamola così che sono arrivate arrivate a un certo punto a decimare veramente una generazione è stata l'eroina e se ne parla anche nel libro e quindi dagli anni 80 fino agli anni 90 sono stati veramente tanti nel mio gruppo di persone gruppo di persone che frequentavo tanti hanno avuto questo problema e tanti ci hanno lasciato le penne ma e lì si dice è arrivata da sola o con le quattro letterine magiche cioè a i d s che erano che era la malattia che spesso andava accompagnata all'eroina in quegli anni non era ancora oggi fortunatamente ci sono dei protocolli di cura per l'hiv che ormai è ufficiale no almeno mi sembra di aver capito l'ho sentito tante volte l'aiz o l'infezione da hiv adesso non so quale delle due definizioni sia più giusta non è più considerato una malattia mortale ma semplicemente un disturbo col quale si può convivere tranquillamente all'epoca non era così cioè chi faceva uso di eroina spesso utilizzava siringhe che venivano passate quindi aumentava il rischio di contagio e e chi si contagiava in quegli anni poi specialmente dei dei fisici già debilitati dalla droga in pochissimo tempo si si spegnevano ecco gabriel ti chiede invece senti max è da anni che te lo voglio chiedere come mai nel 1992 nell'album hanno ucciso l'uomo ragno avete fatto non me la menare in versione gospel ma perché era una diciamo una sorta di divertimento no che avevamo fatto perché quando eravamo in studio avevamo provato a fare un coro ma cioè ma proprio così no seguo dalla disperazione perché è tardi l'auto non me la menare così ma tipo io mauro poi c'era Marco Guarneri o Pierpaolo Perocetti tutto il team ma così quasi come uno sfogo ho detto ma sai che forse fa ridere sta cosa c'è un testo così farlo diventare gospel faceva ridere sta sto contrasto tra non me la menare non capisco cosa vuole tanto e l'idea di un di un canto sacro in qualche modo non me la menare ce ne fa molto ridere ti chiedono dove hai fatto per la prima volta una vacanza da solo immagino senza genitori quindi con gli amici allora la prima volta vacanza senza genitori vera è stato a torre pedrera di rimini insomma perché per me era un modo per ritrovare il posto dove ero andato da piccolo con i miei genitori quindi era senza genitori ma era un modo per rivedere il posto dove proprio all'inizio degli anni settanta ero stato da piccolo piccolo e per me rappresentava proprio l'idea dell'esotico del mare no anche se in realtà poi una frazione di rimini però era un posto a cui mi sentivo molto legato e ogni tanto quando capita quando capito da quelle parti a Riccione eccetera a volte esco rimini nord vado a farmi il giretto vado a rivedere i posti di quando appunto ero piccolo che poi chiaramente non sono più uguali ma comunque però nel ricordo rimangono sì rimangono come dire la sensazione le emozioni vissute nella prima vacanza è sì credo che sia incredibile fondamentale poi ho scoperto nel leggendo questo tuo libro della tua particolare attenzione verso quelli che sono i nuovi fenomeni musicali legati soprattutto alla musica rock allora a torto tanti anni fa qualcuno ti considerava una sorta di come dire di ultima scia di quello che era il fenomeno di paninari perché dicevo ma la musica che fa eccetera poi in realtà se qualcuno si metteva con attenzione ad ascoltare le sonorità che tu proponevi capiva che la preparazione musicale era un'altra cosa il concetto musicale che avevi in mente però nel frattempo hai proseguito quindi gli anni 90 è stato l'anno del grunge è stato l'anno di sì del per gem lo è tuttora di eddie vedder dei sound garden eccetera 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 è anche stato l'anno di kurt cobain certo e infatti è alla figura di kurt cobain ho diciamo ho dedicato un notevole spazio nel libro perché tra tutte le cose che perché a parte che appunto ne avevo parlato anche nel testo di una canzone c'è proprio il suo nome ma per me il kurt cobain è stato una figura essenziale di quel decennio perché rappresentava ha rappresentato veramente il cantore della generazione x no della generazione x americana quella di cui faccio anch'io parte perché anche se dicono che siamo dei boomer in realtà non siamo baby boomer ma siamo degli exers quindi della generazione x ecco e la sua forza di rompente è stata notevolissima una delle cose che ricordo con maggiore diciamo con maggiore chiarezza è stato che scusami kurt cobain e nirvana di fatto scalzarono dal primo posto della classifica americana di billboard niente un po' di meno che michael jackson cioè vuol dire che era cambiato qualcosa era cambiato qualcosa per sempre e sono stati probabilmente l'ultimo grande fenomeno del rock a condizionare pesantemente la musica giovanile no con un messaggio di rottura con un messaggio quasi nichilista anarchico di rabbia però è stato pazzesco è stata una roba che è arrivata e durata allo spazio di poche stagioni ma è forse uno dei fenomeni sicuramente è uno dei fenomeni più significativi della musica degli anni 90 e non solo quello che è accaduto dopo diciamo dalla metà degli anni 90 in poi invece è il definitivo si può dire grandissimi spannometricamente che c'è stato il la presa di potere tra virgolettissime no del del hip hop del rap sul sul pop cioè quindi prima era c'era il pop anni 80 con un po' di rock dei capelloni un po' di rock d'alta classifica degli anni 80 i cars you and the news quella roba lì però con tutto il resto un po' pop un po' plastificato arrivano in nirvana danno una botta pazzesca dopodiché arriva l'ultima onda c'è arriva la prima grande ondata di di rap che occupa tutte le classifiche indipendentemente dal fatto che fossero classifiche bianche nere r&b c'è arrivano e prendono tutto sai la east coast la west coast doctor dre pd di notorious big c'è tutta la storia no tupac shakur ma da lì cambia tutto arriva questa generazione di producer e di artisti di colore che di fatto scalzano il il rock e il pop dalla dalla posizioni predominanti di classifica e quindi cambia completamente il mondo allora prima io avevo il monitor più lontano ma avendo una certità ho dovuto avvicinarmelo per leggere ma certo le domande quindi me ne scuso se come dire artisticamente questo ha un valore inferiore anche se però così sembra molto tecnologico c'è anche di peggio dal punto di vista artistico è cioè c'è sono i bifocali della farmacia io ho il cordino allora volevo io volevo ringraziare personalmente lei sa perché eva ma poi questo chiudiamo parentesi poi invece le domande in questo momento in cui stanno andando per la maggiore il vinile non ha mai pensato di far uscire i vinili usciti nei primi anni della carriera e beh allora adesso diciamo che il vinile effettivamente ad esempio l'ultimo album l'abbiamo fatto in vinile è già da qualche anno che facciamo delle edizioni chiaramente almeno per l'italia è ancora un mercato molto di nicchia quindi di solito facciamo delle edizioni limitate che magari ti metti d'accordo con che ne so col singolo venditore che può essere amazon per esempio che ti fa l'edizione cioè tu vendi lì l'edizione limitata non so di mille e allora e li fai lì però appunto quelli ecco quelli di una volta potrebbe essere potrebbe essere un'idea chiaramente è un tipo di deve esserci l'occasione no magari non so qualche anniversario importante eccetera però non è detto che insomma ma no è cascato ma non dovrebbe essersi fatto niente sono e resistevano a ben altro no ma rischio io fisicamente con paolo che esatto il paolo poi esatto la sua collezione privata faglielo allunga vieni fuori vieni qua paolo oh non avere bellissimo il remix questo tu lo sai l'apparizione in televisione vale come un due stipendi te lo faccio notare allora continuiamo continuiamo con le domande allora hai mai pensato di fare un cd cantando canzoni di altri ma io sai il discorso è che non sono cioè non sono di quei cantanti che dice ah che figata non è il grande cantante il grande interprete io sono uno che canta perché nessuno cioè perché mi piace scrivere le canzoni e nessuno le canta le mie quindi cioè io sono partito con quell'idea lì di voler fare l'autore ma anche Mauro è volevamo scrivere insieme per una cosa che ci piaceva però come autori nessuno ci cagava praticamente nessuno era interessato alle nostre canzoni quindi cantavo io i provini solo per dare un'idea alla fine hanno preso il pacchetto completo hanno detto adesso andate su e fate voi per cui ecco io diciamo che per me la voce serve solo sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista così del timbro non è che sia storia che mi sa è solo quello il minimo è dispensabile che mi serve raccontare le mie canzoni ecco vuoi fare un saluto ad alice sette anni che è una tua fans conosce tutte le tue canzoni certo ciao alice insomma ti mando un abbraccio dallo schermo no gli diciamo soprattutto al suo padre di acquistare o sua madre di acquistare il libro in modo che così può capire anche il mondo anche perché esatto anche perché come dicevi tu giustamente all'inizio del nostro incontro è un libro molto illustrato perché ci sono i disegni pazzeschi di roberto recchioni che è uno dei più grandi per chi non lo conoscesse quei tre o quattro è uno dei più grandi disegnatori di fumetti del nostro paese lui è quello che sta facendo tutto il dylan dog degli ultimi anni insomma è un'eminenza grigia assoluta del fumetto tutta la grafica è curata dalla pro design di sergio pappalettra che aveva curato anche tutta la grafica dei primi album ma anche di quelli più recenti degli 883 di miei insomma quindi c'è c'è molto di grafico è molto bello anche come oggetto quindi insomma è consigliabile anche per chi è piccolo che magari insomma non vuole vedere solo le parole ma anche un po di cose disegnate. Allora è arrivata una domanda alla quale secondo me Elio avrebbe risposto saranno poi anche cazzi miei cioè nel senso che anticipo la risposta che ha dato nel programma Lola ad ogni domanda che gli veniva fatta chiedono se sei vaccinato anche per questo. Non ancora io sono in lista cioè no in lista nella mia ASL il 27 tra l'altro alle ore 10 credo quindi insomma dal 27 poi insomma 27 mi faranno la prima la prima cosa la prima prima iniezione e poi vedremo in base a quello che mi faranno quando sarà la seconda. Ma le 10 del mattino per un artista è ancora l'alba? No quando quando hai figli che vanno a scuola o quelle robe lì anzi 10 del mattino sei già sei già avanti un pezzo. Allora Eva scrive ma la canzone è qualcosa di nuovo sembri nasconde un grande significato degli eventi importanti che capitano nella vita come la nascita di un figlio mi fa pensare è giusto? Cioè lei dà questo? Eh sì è il sì in realtà c'è un racconto ossia c'è il bisogno di cioè quando arrivi a un certo punto della vita deve accadere qualcosa perché altrimenti cioè deve esserci un cambio di di velocità no? Che può essere appunto la nascita di un figlio può essere un amore che ti riempia diciamo molto la vita. Io lì ci ho nascosto anche diciamo in quel testo ho voluto raccontare anche un po' della dell'emozione negativa provata quando appunto nel nel marzo dell'anno scorso è arrivato il primo lockdown quindi è arrivato il virus eccetera e il giorno cioè lì infatti nel testo c'è te lo ricordi quel giorno sembra una vita che sembrava finita giorno no è passata quasi una vita il giorno che è cambiato tutto e sembrava finita ci siamo tenuti le mani ci siamo cioè praticamente volevo raccontare un po' l'emozione del di questo grande cambiamento che però ha dato anche la possibilità a tutti di sentirsi magari un po' più vicini e di guardare a qualcosa di nuovo a una luce dietro la linea dell'orizzonte no? Che poi è quello di cui abbiamo bisogno tutti no? È il quello che stiamo cercando di vivere in questo periodo col vaccino con l'idea che possa ripartire tutto no? Vedo molto quello come qualcosa di nuovo. Allora uno dei tuoi sogni nel cassetto eh i sogni aiutano come dire a a trovare energie sempre nuove è quella di poter salire una volta sul palco con Bruce Springsteen se non sbaglio. No beh ma è una sai uno dice dato che sognare non costa niente cioè sia che tu sogni che ne so un un paio d'occhiali nuovi o che sogni di salire sul palco con Springsteen è uguale cioè costa uguale il sogno no? Allora io dico meglio sognare una cosa anche impossibile ma perché il sogno sai eh nel sogno puoi puoi farlo grande come vuoi no? E quindi preferisco il più grande di tutti ecco. Allora la carogna rossonera che è in me ti chiede a questo punto eh io faccio il maghetto sono l'Harry Potter eh della radio e ti propongo scudetto all'Inter sul palco con Springsteen. Beh è molto dura è molto dura molto dura diciamo che ehm facendo un rapido calcolo eh preferirei ehm sul palco con Springsteen perché per tutta una serie di ragioni eh l'Inter meno male ha più possibilità di di vincerlo in futuro Springsteen comunque ha superato i settanta eccetera quindi anch'io non sono più giovanissimo quindi l'Inter sicuramente sopravviverà a sopravviverebbe a me mentre noi no quindi magari è meglio farlo insomma una volta che ti capita poi puoi anche saltare cioè tanto di scudetti ne hai saltati tanti cioè voglio dire uno in più nemmeno. Sì ne so qualcosa eh però allora sei sempre su questo fantomatico palco la canzone che faresti con lui? La canzone che farei con lui eh probabilmente ehm sicuramente una eh da da nebrasca quindi forse proprio o nebrasca o Atlantic City ecco c'è quindi una delle canzoni eh chiave di quell'album che secondo me è uno dei più belli album della storia della musica. Nebrasca del 1982 registrato con un registratore a cassette a quattro tracce come cioè come come i poveri noi come i ragazzini in in cantina due microfoni e basta e quella è la poesia più grande che si possa che si possa immaginare. Come l'album fatto da Billy Brake e Wilco sul treno allo stesso modo registrato in questo modo con i rumori eh di fondo. E allora visto che siamo ancora sempre su questo palco invece una tua canzone che una tua canzone che pensi potrebbe essere adatta eh a Springsteen evidentemente riarrangiate eccetera no no ma ci sono voglio dire. Forse allora c'è una canzone che ehm di 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 che ho fatto qualche anno fa che si titola Quello che capita che eh potrebbe essere giusta per le le sue le sue corde il suo modo di di cantare no? Perché boh è evoca anche un po' quel mondo lì e forse l'ho scritta anche un po' eh ispirato ai ai suoi testi alle cose che lui che lui ha sempre raccontato. Allora è presente sul libro lo ricordiamo il libro eh Max 90 Max Pezzali per la Sperling e Kupfer i miti degli anni 90 di Max Pezzali abbiamo già spiegato perché è stato uscito questo eh decennio perché il decennio nel quale di fatto Max ha costruito come dire la sua musica la sua la la sua arte che poi eh si è esplicitata in grandissimi dischi di successo ma anche in libri abbiamo alcuni libri che ci ha portato il mio Wikipedia personale Paolo che portato ha portato di tutto questo poi sì cowboy non mollano mai ma neanche ma neanche gli indiani esattamente assolutamente ci sono ci sono varie cose però a proposito del eh del libro dicevamo uno spazio è dedicato a l'uomo ragno come siamo messi con questo cold case abbiamo scoperto finalmente chi è stato ma guarda in realtà eh diciamo che in quegli anni là 92 eccetera era era erano anni di grande eh tensione per gli appassionati di Spider-Man dell'uomo ragno perché era pubblicato poco ehm non si capiva bene poi a un certo punto chi avesse i diritti eh c'erano stati dei problemi molto grossi problemi di distribuzione eh i i i gli albi erano sempre più sottili più fatti di scarsa qualità insomma e soprattutto c'era stata l'invasione eh dei fumetti giapponesi dei manga che avevano quasi completamente spazzato via i i fumetti dei supereroi eh che tanto erano stati popolari negli anni 70 e 80 quindi in quegli anni sicuramente l'uomo ragno stava agonizzando ma possiamo dire oggi a quasi eh insomma 30 anni di distanza che l'uomo ragno è vivo e vegeto e lotta insieme a noi perché eh tutte le nuove incarnazioni insomma Marvel Cinematic Universe sono riusciti a reinserirlo eh dopo anni insomma che stava con la con la Sony l'hanno portato di qua e l'hanno riadattato insomma poi adesso c'è anche il cambiamento di insomma eh etnico di Spider-Man si stanno pensando tante cose insomma Spider-Man da eh eroe murente è diventato in realtà uno dei simboli del rilancio per certi versi della Marvel no anzi alla fine degli anni 90 inizio anni 2000 è stato quello che per primo prima che partisse tutto il meccanismo del dei degli Avengers e della parte lì del del Marvel Cinematic Universe quel il il lo Spider-Man di Sam Raimi ha sancito in qualche modo la rinascita del dei supereroi e quindi insomma è è vivo e quindi non era morto. Allora come direbbero a Roma si è fatta una certa. Si è fatta una certa. Infatti io sono a Roma e si è fatta una certa. E facciamo un paio di domande per arrivare alla chiusura del nostro incontro. La prima eh per chi eh di fatto eh ha vissuto per lunga parte della propria vita su un palco sono stati quasi due anni complicatissimi. Si. Eh tu sei pronto per ripartire dal vivo e quando ripartirai? Allora adesso eh stiamo valutando tutta una serie di cose. Io avevo pronto questo super evento doppio a San Siro già dall'anno scorso quindi dal duemila e venti previsto nel duemila e venti rimandato al duemila ventuno eh luglio duemila ventuno eh ci è stato detto che ancora non non c'è la possibilità di non ci sarà la possibilità di eh di suonare negli stadi ed è rimandato quindi al duemila ventidue non ci hanno dato ancora le date perché devono ancora capire tutti i calendari perché alla fine ci troveremo tutti lì. Secondo me nel duemila ventidue a San Siro ci sarà tantissimo traffico però il bello è che si faranno queste date ehm sono state solo posticipate per cause di forza maggiore e adesso capiremo cioè ci stiamo organizzando io con la vivo concerti che è l'agenzia con la quale lavoro per cercare di capire in base insomma che cosa fare magari nei prossimi mesi valutare un po' di di opzioni e insomma siamo aperti al dialogo perché io non ci sto più dentro chiaramente no cioè vorrei io canterei anche qua sul balcone anche chitarra e voce con due però ehm speriamo che ci sia la possibilità di farlo magari meglio che sul balcone ecco. Allora la caronia che in me ti chiede tu però hai promesso che verrai in presenza assolutamente a presentare il libro e a firmare tutto quello che devi firmare di assolutamente di Paolo quindi prenditi un un pomeriggio sera abbondante ce ne ce ne sarà quindi domani mattina verso le sette sette un quarto ti do un giro di telefono così vediamo già di io sono io sono pronto senti allora questo è un libro di miti il mito dei miti è difficile per me boh probabilmente è difficile perché il mito assoluto per me forse è proprio un anno specifico ecco mi viene in mente questa cosa eh di tutto che non è raccontato lì perché fa parte di quello che è raccontato però ecco io ho questo mito dell'anno 1993 che è stato l'anno eh per me più bello di di quel decennio perché è dove c'è stata una insomma un'esplosione assoluta dalla canzone sei un mito prima non so dove stessi come mai insomma è l'anno stato l'anno della consacrazione quindi lo ricordo ancora come l'anno mitologico per eccellenza quei 12 mesi lì sono stati indimenticabili forse tra i più belli della mia vita anche se sono sempre convinto che poi il meglio debba ancora arrivare no bisogna sempre pensare che le cose migliori siano dietro la prossima curva bisogna essere ottimisti perché se no dopo questo anno in mezzo abbondante eh no facci essere anche pessimisti dopo sto casino cioè senti allora sono tantissimi quelli che chiedono che tu li possa salutare quindi farai un saluto collettivo a tutti gli amici che ci hanno eh seguito io volevo salutare tutti gli amici che hanno seguito i social di Radio Bruno ricordo che comunque questa diretta rimarrà sui nostri canali di Radio Bruno quindi quando volete potete andarvela se credete a rivederla a risentirla a cogliere i momenti che vi sono piaciuti più o meno commentarla comunque noi saremo sempre qua ringrazio anche tutti gli amici da Mondadori Bookstore eh di Carpi che ci hanno seguito attraverso i loro canali loro ci tengono particolarmente che tu venga in presenza in presenza assolutamente hanno lavorato tantissimo per questo io volevo eh Paolo l'abbiamo già visto però anche Leo che ha curato la diretta dai vieni qua Leo dai fatti vedere con la mascherina come sei facciamo assembramento non vuoi fare assembramento ok allora Max grazie del tempo che ci hai voluto dedicare a voi della pazienza saluto tutti quelli che si sono collegati con noi questa sera eh speriamo di non averli annoiati e eh il mio impegno è proprio quello che appena eh siamo un po' più al sicuro tutti eh insomma e che si possa ci sia la possibilità di di incontrarsi di persona e di insomma di ritornare un attimo a ad avere un minimo di interscambio personale ecco ciao Max alla prossima un abbraccio ciao a tutti buona serata buon proseguimento eccolo qua